L'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente, secondo il bollettino quotidiano dei casi Covid-19 relativo all'11 agosto, scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute, parla di 28.433 casi in tutta Italia e di questi in Sicilia 2.446. Per quanto riguarda invece la provincia, si sfiorano i 100 nuovi casi, secondo l'aggiornamento dell'ASPE Nissena del 12 agosto relativo alle ultime 24 ore. I 99 pazienti positivi al SARS-CoV-2 di cui parla l'ASPE sono tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza 32 pazienti di Gela, 18 di Caltanissetta, 8 di San Cataldo, 6 di Niscemi, 6 di Sutera, 5 di Riesi, 4 di Delia, 4 di Mussomeli, 4 di Sommatino, 3 di Campofranco, 3 di Mazzarino, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Resuttano, 1 di Montedoro e 1 di Vallelunga Pratameno. Un solo ricovero in degenza ordinaria di un paziente di Caltanissetta, mentre 3 pazienti sono stati dimessi dalla degenza ordinaria, 1 di Caltanissetta, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia. Guariti dal Covid-19, 76 pazienti di San Cataldo, 62 di Gela, 51 di Caltanissetta, 29 di Serra di Falco, 13 di Sommatino, 10 di Sutera, 9 di Butera, 9 di Mussomeli, 8 di Niscemi, 7 di Delia, 6 di Campofranco, 6 di Riesi, 5 di Resuttano, 4 di Mazzarino, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Marianopoli, 2 di Milena, 2 di Villalba e 1 di Montedoro.